Morphle, trasformati in una macchina da corsa Guardate, ragazzi! Ha una strepitosa macchina da corsa! Sai anch'io una macchina da corsa! Vediamo dov'è! Eccolo qui! Anch'io ho la mia macchina da corsa! Evviva, Morphle! Siamo primi, stiamo vincendo! Attenzione! C'è un... albero che blocca la strada! Morphle, trasformati in un canguro, presto! La mia macchina da corsa può superare gli ostacoli! No, non è vero! Le macchine di certo non saltano sopra le cose! La mia invece sì! Perché ha, vediamo... Delle gambe robot! La mia macchina ha delle stupende ali di unicorno! Oh no! Attenzione! C'è un mare di lava! Morphle, trasformati in un razzo spaziale! La mia macchina da corsa robot ha anche dei razzi super veloci! La mia macchina da corsa unicorno ha anche un corno magico che può aprire portali magici! Però vediamo se riuscite a fare meglio di questo! I razzi spaziali possono volare veloci! Più veloci di un polmine! Ehi! Ma dove sono Sara e Troy? Torniamo indietro, Morphle! Ehi, ragazzi! Perché non avete finito la gara? Non possiamo stare dietro a Morphle! È troppo veloce! Ho una proposta! Perché non saltate anche voi a bordo del fantastico Morphle razzo spaziale? Ci stiamo tutti! Oh no, Morphle! Ti sei fatto tanto male! Oh, fa fatto una bua! So cosa può tirarti su il morale! La mia invenzione è terminata! Venite a vedere! Ho inventato un siero della gioventù che voglio sperimentare ora sul mio assistente! Com'è carino! Che invenzione incredibile! E' dolce! Morphle! È caduto una goccia di siero su Mila! Oh, accident, Polina! Io non so come ci si prende cura di un bambino! Oh, che disastro! Morphle! Devi portarla subito da suo padre mentre crea un antidoto! Oh, santo cielo! Morphle! Papa! Papa! Papi! Oh no! Mila, non piangi! Dai! Mila, ha fame? Mila! Mila, dov'è nas costa? Mila! 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 Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ciao Mila! Ah, 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 ah! Ciao Morphle! Sono tanto felice di vederti, lo sai! Ho fatto un sogno davvero strano! Ho sognato che ero una bimba piccola! Non è incredibile! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Morphle, trasformati in un grande camion! Dobbiamo portare queste macchine da costruzione al nuovo cantiere della città! Andiamo al nuovo cantiere! Forza Morphle! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Eh! non succede questo nella mia città siamo arrivati eccoci al nuovo cantiere c'è anche un altro camion qui signore già è l'unica macchina che non abbiamo dovuto trasportare è venuto per conto suo sai si tratta di un camion dei rifiuti robot che abbiamo avuto dal professor Song ciao mi ricordo di te costruttore Lawrence le tue macchine sono scivolate via dal camion e stanno seminando il caos totale nella mia città oh non è possibile il camion è del tutto vuoto come risolviamo questo disastro Morphle e il camion dei rifiuti robot potrebbero cercare le macchine scivolate via sì questa è un'ottima idea Morphle trasformati anche tu in un camion dei rifiuti che ne direste di fare un gioco che riesce a portare più macchine qui al cantiere vince ok Morphle troviamo tante macchine forza il camion dei rifiuti robot è già riuscito a trovare una macchina ma saremo noi a trovare la prossima guarda Morphle quelle persone sono intrappolate nel cemento Morphle trasformati in un martello pneumatico guarda Morphle non sei abbastanza grande Morphle trasformati in un camion dei rifiuti giganti guarda Morphle, anche il camion dei rifiuti robot ha già trovato due veicoli quindi chi di noi trova la prossima macchina, vince! l'abbiamo trovata, la palla demolitrice! oh no, purtroppo l'hanno presa i banditi fanghigliosi fermi, i banditi fanghigliosi! lasciate stare la casa di Troy! bambina, noi non siamo più i banditi fanghigliosi adesso siamo i banditi demolitori! siamo molto impazienti di demolire quella bella casetta no! questa è la nostra casa! Morphle, trasformati in un robot! i banditi demolitori torneranno a colpire, vedrete! tranquilli, vi aiuteremo a ricostruire la vostra casa! coraggio, smettiamo di giocare e mettiamoci al lavoro! i banditi aspettiamo... no! o Ehi, Mila! Guardami! Non ti vedo! Dove sei, papà? Guarda su! Ciao! Che bello! State volando! Già? Anche Orphol vuole volare! Cosa? Orphol! Sei divertente, papà! Lasciami andare subito, Orphol! Anche Orphol ha abito! È magnifico, vero? No, per niente! Mi è appena venuta un'idea! Perché non fate una bella gara? Come? Che idea fantastica! Ok! Il primo di voi che arriva sulla cima della montagna vince! Pronti? Partenza? Via! No, voglio fermarmi! Cavolo! Corrono veloci come sette! Fanno a gara fino alla cima della montagna! Ho il trofeo giusto per l'occasione! Forza, andiamo! Oh! Wow! L'hai appena superati! Oh! Questa è stata un'idea geniale! Ben fatto, Morphle! Non mi sono mai sentito così forte! Forse conosco una scorciatoia! Vada a quella parte, Morphle! Li abbiamo seminati, Orphle! Sì! Oh no! Devi fare qualcosa, Orphle! Siamo ancora più veloci! Ecco la montagna! Morphle! Troppo! Stanco! Orphle stanco anche lui! Tranquillo! Vincerò io la gara, Morphle! Oh no! Vincerò io! Allora, chi ha vinto la gara? Io credo... Che siamo pari! Sono pari! Oh oh! Non preoccuparti, Mila! Se devo consegnare un trofeo, ne porto sempre uno in più con me, per sicurezza! Oh! Oh! È stata una grande avventura, Morphle! Sì! Devo ammetterlo, è stato molto divertente! Io ora devo andare e ho una cosa da fare, Morphle! Ma si tratta di un segreto, quindi tu non verrai con me! Oh! Ma... Morphle vuole venire! No, Morphle! Non posso portarti con me! A più tardi, Morphle! Ma Mila! Mila! Mi dispiace, Morphle! Mila! 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 C'è qualche problema, Morphle! Mila, con voi! No, mi dispiace! Non l'ho vista per niente oggi! Mila, qui? Cosa? No! Mila non è qui, mi spiace! Oh! Mila, qui allo zoo! No, Morphle! Non è venuta oggi! Mila, non è qui! No, Morphle! Dove è Mila? Morphle sta piangendo? Non si piange nella mia città! Coraggio, Morphle! Scommetto che Mila ti sta aspettando a casa! Non arrenderti così, Morphle! Non hai ancora controllato il giardino sul retro! Sorprende! Mila! Buon compleanno, Morphle! Su, dai, presto apri il tuo regalo! Evviva, Morphle felice! La giustizia non dorme mai! Ma tu sì, dalle nove di sera alle sette di mattina! È ora di combattere il crimine! Subito dopo aver lavato i denti! Ti ringrazio, Morphle! Abbiamo finito! Con la mia ultima grande invenzione anche tu potrai trasformarti esattamente come Morphle! Oh, che bello! Sono un gatto! Così non potrai più prendermi! Guarda! Prova a prendermi adesso! Forza! Un opperodattilo! Oh, sì! Ottima idea, Morphle! Giochiamo a fare i dinosauri! Io lo so già qual è il dinosauro che vorrei tanto essere! Il più grande e grandissimo di tutti! Eccomi! Sono l'argentinosauro! Scivolato! E hai visto che coda gigantesca! Oh, no! Credo che l'invenzione si sia rotta! Adesso non potrò più ritrasformarmi in me stessa! Professore! Professor Rashid! Sì! Hai ragione! Devo tornare in fretta dal professor Rashid! Ma sono troppo grande così! Non riuscirò a passare tra gli alberi! Morphle! Trasformati in una gru! Oh, no! Morphle! Sono incastrata! Morphle! Trasformati in un grandissimo robot! Oh, mamma! Lei non sa quanto mi dispiace, professor Rashid! Ho rotto la sua invenzione! E non posso più ritrasformarmi in me stessa! Non preoccuparti! Posso sistemarla in un baleno! Mila! Ritrasformati in Mila! Questa può anche riprenderla lei, professor Rashid! Da adesso in poi lascerò le trasformazioni al mio amico Morphle! Guarda, Morphle! Ho trovato un uovo colorato! Wow! Morphle colora uovo! Morphle colora uovo! Sì! Trasformati in un pennello! Forza! Morphle vuole colorare un grande uovo! Sono sicuro che quelle di dinosauro siano molto grandi! Dinosauro? Sì! Papà ha avuto un'idea fantastica! Andiamo a cercare uova di dinosauro da colorare! Wow! Ecco! Triceratopo! E ha un uovo! Guarda! Buongiorno, signora Triceratopo! Possiamo colorare il tuo uovo! Papà! Il tuo uovo è colorato! Ti piace? Oh! Oh no! Vuoi forse che coloriamo anche il tuo uovo? Oh! Wow! Dobbiamo darci da fare, Morphle! Dinosauri felici! Sì! Ciao, ciao! Guarda, Morphle! Oh oh! Quello non è un piccolo triceratopo! È un cucciolo di pterodattilo, Morphle! Uova scambiate! Non preoccuparti! Morphle e io andremo a cercare il tuo cucciolo per riportartelo! Sì! Morphle, trasformati in un elicottero! Guarda chi c'è laggiù! Oh! Scusaci tanto, pterodattilo! Abbiamo scambiato le uova! Ecco qui il tuo cucciolo! Ups! Ti abbiamo riportato il tuo cucciolo! Ecco! Priceratopo cucciolo! Già! Dobbiamo riportarlo subito alla sua mamma! E siamo giusto in tempo! Guarda! Tra pochissimo saremo di nuovo a casa nostra! Ciao, ciao! Eccovi ragazzi! Sarete felici di sapere che c'è un regalo per voi! Wow! Sei pronto a colorare quest'uovo gigante? Sì! Yuhuu! Ecco voi, signori! Come avete chiesto ho costruito un'orda di robot! Perfetto! Sono felice che ne abbiate ordinati così tanti ma per che cosa ne avete bisogno se posso chiedere? Niente di speciale professore! E per favore continui a costruirne altri per noi! Mila! Devi ridarmi subito la mia macchinina! La tua macchinina? Ma io non ho la tua macchinina Troi! Certo che ce l'hai tu! Ti ho visto prenderla prima! Se non me la ridai immediatamente corro a casa tua a dirlo a tuo padre! Mila non ho la tua macchinina! Va bene io vado mi dispiace! Troi aspetta! Oh ecco ti qua Mila poco fa stavo andando ad una riunione importante quando tu mi hai lanciato del fango! Io non farei mai una cosa del genere! Devo andare a casa a cambiarmi ora ma non illuderti di cavartela così signorinella! Non ti sembra un po' strano Morphol? Dobbiamo scoprire che cosa sta succedendo vorrei che ti trasformassi in un elicottero Morphol guarda! Mila combina guai! Morphol quella non sono io e io sono qui con te! Quello è sicuramente un robot dobbiamo seguirlo Morphol! Forse ci serve una calamita! Adesso portiamolo alla prigione! Il poliziotto Freeze saprà occuparsene meglio di lui! Poliziotto Freeze abbiamo catturato un robot che combinava guai in giro! E immagino sia uguale a questo! Cosa? Ma quanti robot ci sono? Professore ci servono altri robot! Sto facendo il più in fretta possibile! Sono sicura che i robot siano andati da questa parte! Sì! Sono tantemila! forza! adesso vai a prenderci dei gelati ok dobbiamo prendere quel telecomando Morphol mi è appena venuta un'idea vieni con me guardate c'è un morphol 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 e tu dove stai andando robottino? ma cosa? coraggio robot acciuffate i banditi no! no! come al solito c'eravate voi due dietro staremmo un po' stretti qui non è vero Stein levatevi dai piedi robot no! non importa non avete vita prendete mila no! no! poverino no! 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 no!